La mente è un organo complesso che può essere riprogrammato con l'esercizio e la ripetizione. In soli 5 minuti al giorno è possibile iniziare a vedere cambiamenti positivi nel proprio modo di pensare e di agire. Ti darò dei consigli bonus alla fine del video. Seguimi, io sono Charlotte. Partiamo con un semplice esercizio che puoi fare per riprogrammare la tua mente. 1. Trova un luogo tranquillo dove non sarai disturbato. 2. Chiudi gli occhi e respira profondamente per alcuni minuti. 3. Ripeti a te stesso una frase positiva o un'affermazione. 4. Immagina di essere già la persona che vuoi essere. 5. Continua a ripetere la frase e l'immagine per 5 minuti. Ad esempio, se vuoi diventare più sicuro di te, potresti ripetere a te stesso sono una persona forte e capace e immaginare di essere in una situazione in cui ti senti sicuro e a tuo agio. È importante segliere frasi e immagini che siano positive e realistiche. Se scegli qualcosa che è troppo lontano dalla tua realtà attuale, sarà difficile crederci e quindi sarà difficile ottenere risultati. Con la pratica, questo esercizio diventerà sempre più facile e potente. Dopo un po' di tempo, inizierai a vedere cambiamenti positivi nel tuo modo di pensare e di agire. Ascolta i miei consigli per riprogrammare la tua mente. Elimina le convinzioni limitanti. Se hai convinzioni limitanti, come non sono abbastanza bravo o non posso avere quello che voglio, queste ti impediranno di raggiungere i tuoi obiettivi. Inizia a identificare le tue convinzioni limitanti e lavora per sostituirle con convinzioni più positive. Cambia il tuo modo di parlare. Il modo in cui ti parli a te stesso ha un grande impatto sul tuo modo di pensare. Inizia a usare un linguaggio più positivo e incoraggiante. Entra in contatto con il tuo corpo. Il tuo corpo è il tuo tempio. Prenditi cura di te stesso, mangiando cibi sani, facendo esercizio fisico e dormendo a sufficienza. Riprogrammando la tua mente, puoi creare la vita che desideri. Se crei la vita che desideri, ti avvicinerai sempre di più alla felicità. Comincia subito. Da oggi il tuo motto è Ora o mai più Sii felice.